Visite saltate, salute negata. Quattro mesi di covid con gli ambulatori chiusi e pazienti oncologiche lasciate senza controlli. Ora si passa alle vie legali. Il movimento Donne Libere, in lotta per il diritto alla salute, assistito dall'avvocato Michele Zuddas, ha depositato un esposto alla procura di Sassari. Ricca la memoria a supporto della denuncia. Cittadini e cittadini sardi raccontano la propria odissea di malati affetti da patologie gravi, non solo legati ai tumori, che combattono da tempo anche con l'insufficienza delle cure. Il ritorno alla normalità, più volte annunciato in campo sanitario dalla regione, non risponde, secondo il movimento, alla realtà. E se è presente stenta, il passato lascia un'eredità pesante. Da capire ancora, infatti, quale siano le ricadute del lockdown per i pazienti e se, come è probabile, le loro condizioni si siano aggravate. Al danno si aggiunge la beffa, l'interruzione delle visite, decisa mesi fa dalla direzione generale della TS, in molti casi non si era tradotta in una comunicazione agli interessati, costretti così a lunghe, inutili file, nei triage all'aperto. Una situazione al limite, che peraltro persiste. Feminus Liberus denuncia, infatti, che le poche visite riprogrammate non contemplano indicazioni su eventuali controlli anti-Covid. Il calvario dei pazienti continua, quindi, ma adesso finisce sotto la lente della procura. Grazie.